giornate di presentazione dire pur purtroppo fu un'estate dagli eventi atmosferici e da lutti nel mondo del lavoro legati anche all'alluvione purtroppo sì insomma abbiamo aperto proprio questa giornata con un ricordo un pensiero alle vittime di questa tragedia e alla tragedia nella tragedia perché poi oltre alle vittime che il mare sta restituendo in queste ore c'è stato anche purtroppo un incidente mortale sul lavoro ieri in serata a Baiardo è recentissima la notizia che il corpo di un lavoratore di 20 miglia è stato identificato e alle loro famiglie ai loro cari vanno le nostre condoglianze alla nostra massima vicinanza perché ogni volta che succede un fatto di questo tipo lo si affronta quasi come come fosse ineluttabile non può e non deve essere così insomma e bisogna lavorare per fare in modo che queste situazioni siano debellate e che non si debba morire per catastrofi naturali non si debba e non si possa morire per andare a lavorare per mettersi al servizio della propria comunità e per cercare insomma di portare il pane a casa insomma sono notizie dolorose e è difficile anche commentarle oltre io credo che un caloroso abbraccio ai familiari e un onorevole silenzio sia l'atteggiamento migliore ecco a voi a voi a voi a voi